buongiorno a tutti e ben ritrovati scusate tanto scusate la tanto lunga attesa per un nuovo video sul canale però come ben sapete ho dovuto testare dei prodotti nuovi della dell'or in italia da diciamo che mi sono arrivati una decina di giorni fa quindi dovuto testarli ecco per vedere se ci sono stati dei risultati o meno e come sapete io prima di di caricare qualche video sul mio canale devo testare sempre le cose e per poi parlarne con voi ecco e in questo caso portato un pastoncino con degli integratori che poi vi elencherò piano piano nel video e che sono dell'ornitalia quindi ringrazio anche ornitalia per avermi dato la possibilità di provare i suoi integratori e da inserire in questo pastoncino che vi andrò a far vedere come lo preparo che gli ingredienti sarebbero uovo nuovo in polvere avis probiotic vitality vita star scusate vita stall vitality b complex ornitalia protein 90 plus aminostarte pastoncino secco luogo ovo e super dry professional codice 360 vi lascerò tutti i link in descrizione e le perle morbide dell'ornitalia e intanto che ve li ho elencati sono qua vi lascerò i link in descrizione per chi volesse provarli io li ho provati e ho visto diciamo degli ottimi risultati su dei pulli e su coppie che avevo già formato e come ben sapete questo è un canale di cure naturali però c'è gente anche che mi chiede gli integratori cioè diciamo che ho due categorie nel mio nel mio canale youtube quella che cerca le cose sono naturali e quelli che vogliono andare su sugli integratori ecco non hanno magari il tempo di andare scusate andare a raccogliere le prative o magari sono tutto il giorno impegnati col lavoro e quindi non hanno tempo come ho detto di andare a raccogliere i semi prative eccetera eccetera preferiscono comprare questi integratori che secondo me a mio punto di vista sono ottimi e danno degli ottimi risultati e niente ci vediamo tra poco dopo dopo la mia sigla eccoci ritornati allora cosa ho fatto io ho preso 100 grammi di perle morbide dell'ornitalia e li ho messi con 200 grammi di acqua se usate 50 grammi di perle morbide dovete sempre mettere il doppio del peso dall'acqua quindi 50 grammi 50 grammi di perle morbide ricordati di usare 100 grammi di acqua 200 grammi di perle morbide 400 grammi di acqua acqua se volete se non avete tempo di aspettare vi consiglio di usare una temperatura di acqua che varie dai 50 e 70 gradi di acqua e il tempo è meno lungo cosa vuol dire che aspettate magari un quarto d'ora un quarto d'ora 20 minuti e sono già pronte invece chi ha tutto il tempo possibile acqua tiepida due orette di attesa vasta e avanza cosa ho fatto io qua ho preso delle perle morbide e li sto andando gli ho tritate li ho tritate nel macinino robò chiamatelo come volete e poi questo è il risultato questo è il risultato vedete del pastoncino che poi andremo ad aggiungerci insieme l'integratore quindi questo qua come ho detto secondo me è un ottimo pastoncino merita veramente tanto e è molto appetibile perché comunque c'è anche un buono profumo quindi secondo me merita tanto e andremo a andremo a inserirci gli integratori e tutto il resto eccoci ben ritornati nel nostro video questo qua è il pastoncino come si forma vedete una bella consistenza ottimo perché io l'ho testato come vi ho detto sui miei pulli e diciamo che questo qua l'ho preparate dieci giorni prima della deposizione delle uova questo pastoncino qua l'ho dati tutti i giorni diciamo che aiuta aiuta tantissimo i soggetti prima della cova che così si così vengono fuori dei diciamo dei pulli belli 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 tosti diciamo con delle ossa belle forti e come primo ingrediente usiamo il vita stall vita stall vi ricordo che è questo vita stall è un prodotto che migliora l'uovo deposizione facilita il corretto sviluppo scheletrico dei pulli quindi diciamo che aiuta tantissimo ai pulli e come dosaggi sperate che prendo un cucchiaio dosaggi su su 100 grammi di pastoncino andremo a mettere un grammo io ho 600 grammi quindi entrò a mettere 6 grammi quindi 124 e questo qua è il primo prodotto vita stall il secondo prodotto che usiamo è aminostarte è importante per una crescita e l'armonica dei nidaci ed è un conte concentrato di aminoacidi quindi questo qua diciamo che va usato durante tutto il periodo della della cova e da somministrare tutti i giorni quindi non è un problema quindi io questo lavoro già testato come vi ho detto ce l'ho già da 10 12 giorni e diciamo che ho visto degli ottimi risultati andiamo a mettere l'usaggio secondo prodotto che andremo a usare è il vitality b complex il vitality b complex diciamo che contiene tutte le vitamine del gruppo b in elevate concentrazioni vitality b complex è un integratore che contiene tutte le vitamine del gruppo b essenziale per la vita di tutti gli organismi queste vitamine sono idrosolubili e quindi non vengono immagazzinate nell'organismo pertanto devono essere assunte con la dieta o mediante integrazione nel caso di carenze dovute a stress o malattia le vitamine del gruppo b sono fondamentali per il normale funzionamento del fegato e del sistema nervoso inoltre svolgono un ruolo chiave nel metabolismo nel metabolismo scusate dei carboidrati dei grassi e delle proteine e diciamo che anche questo qua è veramente ottimo perché comunque io li ho usati tutti questi integratori qua già la settimana scorsa e diciamo che anche questo è veramente ottimo e come modalità di uso per la somministrazione allora mezzo grammo per uccelli di piccola taglia un grammo per soggetti di media taglia un grammo e mezzo barra due grammi per uccelli di grande taglia potete miscelarlo sia in acqua che nel pastoncino ogni 100 grammi di pastoncino ci andate a mettere le quantità che vi ho detto io ho 600 grammi ho dei soggetti di media taglia quindi andrò a mettere un grammo quindi sono 600 grammi di pastone uso 6 grammi mi raccomando usate sempre la bilancia non andate mai a caso anche se sbagliate di un grammo non fa mica mai male però andate sempre con il peso della bilancia questo qua come ho detto il vitality b complex invece secondo l'altro prodotto è questo qua la vis probiotics è un supplemento probiotico contiene batteri vivi per per pastoncino diluire nell'acqua composto di microrganismi attivi che natura si trovano nei tratti intestinali degli uccelli contiene nuovi tipi di batteri attivi i suoi vantaggi sono per il sistema immunitario degli uccelli e genera benefici per quanto riguarda la vitalità l'uso di l'uso di probiotics ha sei importanti funzionali elimina le colonie di batteri nocive dell'intestino ristabilisce il naturale bilancio della flora batterica intestinale riduce i rischi di infezioni batterica facilita la digestione dei cibi stimola il sistema immunitario riduce la formazione di sali di ammonio nell'acido unico urico scusate i suoi dosaggi sono 5 grammi su un chilo di pastoncino quindi io andrò a mettere 3 grammi perché ho anzi anche 22 grammi e mezzo chi non l'abbia visto aves probiotics è questo poi useremo l'uovo in polvere l'uovo in polvere è diciamo il sostituto dell'uovo poi ultimo prodotto è ornitalia protein 90 plus è un integratore questo contiene un elevato tenore protetico la quantità di grassi lipidi e carboidrati presenti nello rendono un alimento nutrizionalmente equilibrato ed edione alla creazione di una corretta dietro per i nostri uccelli e costituiti esclusivamente da pure proteine di origine animale albume e caseine in cui il corretto aminoacido è tale da sopperire la carenza di aminoacidi e caratteristiche dei vegetali i suoi vantaggi sono particolarmente indicati per il periodo di maggiore stress come ad esempio la muta e il periodo riproduttivo sebbene possa essere somministrato tutto l'anno come supplemento protetico e i suoi dosaggi sono 5 6 grammi di ornitalia protein plus in 100 grammi di pastoncino somministrare come supplemento aminoacido durante il periodo di riposo 3 4 giorni in 100 grammi di pastoncino quindi andremo a somministrare tutto io ragazzi ho dovuto farmi diciamo una una lista perché non potete mai ricordarvi tutta memoria quindi io mi sono scritto tutto così so quello che do e i miei dosaggi per i miei soggetti ecco non vado mai a caso con nessun prodotto io vado sempre con i dosaggi prendiamo un cucchiaio mescoliamo il tutto come vedete questo pastone è veramente pieno di proteine e aiuta veramente lo stimolare i soggetti soprattutto in questo periodo qua che diciamo che le temperature non aiutano per niente e io sui miei soggetti do sempre il meglio e per chi mi conosce sa come allevo schiacciamo bene tutto da fare amalgamare tutto e in aggiunta io come supplemento vediamo se si riapre ci aggiungo i semi germinati per renderli ancora più appetibili non vado a spese io sui semi germinati con il pastone preferisco farlo in giornata però di solito ne rimane sempre di pastone potete conservarlo massimo 3 giorni in frigo massimo quando dovete somministrarlo lo tirate fuori un'ora prima della somministrazione o addirittura potete tirarlo fuori anche la notte e tenerlo fuori non vado a spese io ok ci siamo vi faccio vedere come è venuto eccolo e si dimostra così il nostro super pastone guardate questo è un pastone che potete usarlo in questo periodo qua tutti i giorni nell'allevamento con pulli o senza pulli pieno di integratori vitamine e carboidrati e consiglio di usarlo con una buona miscela quindi io siccome ultimamente sto provando prodotti di ornitalia quindi vi consiglio una miscela una miscela greg non quella major ma quella codice 1250 se non erro è una gran buona miscela ve la posso consigliare che dovrebbe essere la rosmallen si codice 1250 questo è il video di oggi ringrazio tutti per il supporto che mi danno scusate la lunga attesa però come sapete ve l'ho detto ve lo ripeto sempre devo sempre testare qualcosa così da farvi vedere quello che io integro nel mio allevamento ovviamente ogni tanto vado con cose naturali ogni volta ogni tanto vado con integratori anche per l'altra metà come vi ho detto che mi segue perché non tutti hanno il tempo di usare le cose naturali non hanno il tempo per chi perché perché lavoro per chi non è mai a casa per tante cose possono essere non tutti hanno tempo a disposizione per preparare gli estratti o fare le cose di ortica o pastoni con le ortiche o preparare i semi germinati e stare lì alla variazione perché magari ognuno diciamo c'è i suoi cosi e quindi non siamo qua a giudicare nessuno io non giudico mai nessuno io porto video sul canale di quello che faccio e di quello che somministro i miei soggetti vi lascerò il link in descrizione di tutti questi prodotti protein plus uovo in polvere ovue ovue super dry professional che è un gran buon pastoncino che si dimostra così ve lo faccio vedere questo qua è veramente un ottimo pastoncino secco così quando usate magari l'uovo i semi germinati che sono ancora un po' umidi ecco con questo qua andate a seccare il tutto poi l'amino start aves probiotic mi sembra veramente ottimo questo prodotto qua vita stall è il vitality b complex comunque come ho detto vi metterò il link in descrizione di tutti i prodotti sono validi potete testarli e minimi saprete dire nei sotto nei commenti o dove vi pare anche sui gruppi facebook dove io ormai sono dappertutto e niente saluto tutti i miei amici dei gruppi e questo è il video di oggi e mi hanno chiesto di parlare magari sui gruppi ho messo un sondaggio di che cosa vi possono interessare il prossimo video che si terrà tra tre quattro giorni scusate se non faccio più video spesso ma sapete come quando sono i pulli in vista e diciamo che il tempo è sempre quel che è cercherò di portare un video dove vi farò vedere una cosa naturale per per l'accaro rosso come evitare l'accaro rosso con una cosa naturale quindi spero che il video vi sia piaciuto e iscrivetevi al canale perché veramente stiamo sta diventando veramente grande il canale grazie a voi per il supporto che mi state dando e condividete tra i vostri amici alla prossima un saluto a tutti